La stagione di Taormina 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 Ho questo servizio, se potete, magari ve lo potete rivendere al mercato delle dolce, non era facile, oltre alla signora disse delle cimici, e con il ricavato ci potete andare, se volete, per una settimana alle... ...seghella, spavaranzato, sotto un albero di noci di cocco, o sotto un albero di... ...pompelmo, un'antichissima e preziosissima... ...cornice... ...contenente una... ...tela... ...del pittore... ...Rubens... ...arubbata nel... ...museo... ...di... ...Mosca... ...e... ...non sono... ...invenuta... ...nella città di... ...Dover... ...e subito spedita nella città di... ...Stoccarda... ... ...Pare... ...che sta... ...tela... ...del pittore... ...Rubens... ...Rubens... ...arubbata... ...nel... ...di... ...e... ... ... ...nella città di... ... ...ma come è stoccarda? ...questa è stoccarda... ...stoccarda così... ...è matta... ...e giubito spedita nella città di... ...Stoccarda... ...pare che sia... ...appartenuda... ... ...niente... ...pocchino... ...che a Paolina... ... ...o... ...al... ...centro di questa... ...fevra... ...ti... 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 ... su quei monti... ...canpeggia... ... ...la figura del grande condottiero... Gengis Khan, da lì, si è sul suo cavallo, si, sul suo cavallo bianco nel momento del suo grande trionfo sul... sul tartaro va, signori miei, si finisce la vendita a poter cominciare il salto di la visto. Grazie, signori, mia famiglia si allontana sempre che ti pregunto, e quando, come e dove, tu sempre, mi risponde... Chissà, 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 c'è un sacer me, l'altra... E così passano i giorni, e così passano i giorni, e io, desesperato, e tu, tu contestando... Chissà, chissà, chissà... Che sta perdendo il tempo, pensando, pensando... Chissà, 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 chissà... Chissà, 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 chissà... Chissà, 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 chissà... Qui sas, qui sas, qui sas. Qui per un po' non cantava, ma parlava sul pianoforte, parlava e parlando esprimeva lo stesso concetto, espresso poco prima. Triste, malinconico, esistenziale, ironico, ma amaro. No, no. No. No, no, c'è lì, no. No. No, no, no. Me, no me, oh. Perca, no, no. No, no, no. Qua. Amo. Non m'ha da pomperta. Non m'ha da pomperta. Non m'ha da pomperta. E finiva sempre così. Ti paolo, teca. Bravo! Bravo! Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Grazie.